Settimana di grandi attese a partire da dopodomani con cinque nostre rappresentanti impegnate in Coppa Italia tra Romagna e Marche. Giovedì alle 11 la Colormax Pescara aprirà la Final Eight affrontando il Pesaro, solitaria capolista in campionato. L'ultimo turno dei quarti è in programma, sempre giovedì alle 20.45. L'Acqua e Sapone Unigrosse la vendrà col Dosson. Semifinali e finali si disputeranno sabato 24 e domenica 25. Nella femminile venerdì 23 in campo il Montesilvano che alle 20 giocherà contro il Bisceglie per la A2. Se ne parlerà venerdì 30 quando il Francavilla affronterà il Best Sport Roma, lunedì 26 protagonista anche il Florida per l'Under-19. In campionato in B straordinaria rimonta con i tanti recuperi della De Montesilvano che è ormai dentro i play-off.